La Chiesa di Napoli ha 12 nuovi diaconi permanenti, ordinati dall'Arcivescovo Metropolita e il Cardinale Crescenzio Sepe nella Chiesa Cattedrale durante la funzione liturgica della Domenica che la Chiesa Cattolica celebra come festività dell'Ascensione, che ricorda il ritorno del Signore Gesù Cristo al Padre dopo la sua passione, morte e risurrezione, non prima di aver annunciato ai discepoli il dono dello Spirito Santo e avergli impartito il mandato della predicazione del Vangelo in tutto il mondo. Questi i nomi dei nuovi diaconi, Mario Anzaldi, Alessandro Basile, Antonio Calvano da Napoli, Vincenzo Corrado da Melito, Alfredo da Basso da Napoli, Gennaro Di Gennaro da Casalnuovo, Giovanni Esposito da Napoli, Aniello Iardino e Angelo Martiniello da Portici, Claudio Paolello e Antonio Strazzullo da Napoli e Mirko Ragazzon da Torre del Greco. Il diaconato permanente, ripristinato 50 anni fa grazie al Concilio Vaticano II, fu istituito dagli Apostoli come narrato negli Atti di Luca per servire nella carità fraterna la comunità dei credenti nel servizio alle vedove tra i poveri del tempo.